E' stato condannato a dieci mesi Abdul Karem Usam, il nigeriano protagonista del ferimento dei vigili urbani davanti al supermercato Maxi Sidis di via Roturno a Salerno. Il pubblico ministero ne aveva chiesto la condanna solo per resistenza pubblico ufficiale, ma il giudice Ubaldo Perrotta, che ieri ha emesso la sentenza, ha ritenuto che l'accusa di aggressione, allora sottolineata dal sindaco Vincenzo De Luca, sussisteva a tutti gli effetti. Infatti il nigeriano nel tentare la fuga aveva travolto gli agenti mettendo in conto il rischio di ferirli e quindi concretizzando la figura giuridica del dolo eventuale. La vicenda, che risale allo scorso 3 novembre, si conclude quindi in primo grado con l'accusa per il ventenne che all'epoca dei fatti era all'esterno del supermercato, elemosinando qualche centesimo in cambio di aiuto per prendere il carrello per riporre la spesa nel bagagliaio dell'auto. De Luca, ritenendo che il ragazzo stesse importunando le persone, chiamò i vigili urbani per farlo a cacciare via. L'accaduto era approdato anche su internet grazie ad un video amatoriale caricato su YouTube che riprendeva l'ex sindaco Vincenzo De Luca a battibeccare con alcuni passanti che erano intervenuti per difendere le ragioni del giovane extracomunitario.